siamo sempre a quattro punti dal modena la classifica parla chiaro la classifica parla chiaro cioè loro sono quattro punti da noi scusate siamo a pari punti col perugia ragazzi che non vince da ben due partite bisogna vincere assolutamente e provare e provare veramente a raggiungere i playoff intanto aggiornamento pensieri dell'osservatore allora jovanovic bisogna pensarci poi knesergic vale 300 questo 265 guarda lì da vicino non saltiamo andiamo a giocare direttamente giochiamo così moscatelli ha preso un punto intanto full on pure mi pare andiamo a giocare questo è importantissimo è fondamentale ma c'è importantissimo per le due squadre fondamentale per la classifica giornata di sport in uno stadio al limite del tutto esaurito con un grande entusiasmo sulle tribune e con uno spettacolo da primidi da parte dei tifosi all'inizio appassionati ben trovati la fiore ci parte dell'elebani qui con me per il contatto tecnico a prendersi una scena oggi la serie l'ora non c'è nessuno in mezzo come al solito si mantenga di grande lealtà e sportività in campo il calcio su questi caratteristiche ripeto ci prova rauco mamma mia gagno che ha volato mamma mia rauco l'euro gol stava facendo marino ferma l'azione recupera la sfera lazzarini ci prova lazzarini l'ha imparato a tirare lazzarini incredibile il difensore centrale l'ha imparato a tirare bravo ti arrà Caio Giorgio semina il panico Caio Giorgio ha seminato veramente il panico Caio Giorgio Caio Giorgio mamma mia che passaggi però che fai Caio che passaggi brutti che fai che passaggi brutti me non ce l'ho no dai alla prima bravo Giorgio argaduto è bravissimo capisce tutto e caccetta bene il passaggio mazza che ha preso il difensore è riuscire a piallo da dietro oh in dieci non siamo riusciti a piallo malissimo Arauco che sapeva tutto Arauco mamma mia manda a voto il difensore incredibile Arauco per Vico Relli che se l'allunga il Vico per Caio Giorgio non gli arriva però il pallone come sempre Renzetti a vuoto a vuoto di Arauco e lì a su di lui non si passa 34esimo vola Vico vola Vico Leo 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 aspetta l'arrivo del compagno Caio Giorgio ammazza che ha preso il portiero ma che davvero ma chi ci hanno porta oh ma davvero che butta sti palloni quanto me cazzo bravo Menoncello a capire tutto vola la Arauco ma mi è rimasto per terra ma ha preso un corpo a chi Vico a chi a chi parte in volata tremolata bravo Elia bravo Elia dai che c'è tutto il secondo tempo ancora c'è tutto il secondo tempo Vicorelli è stanco esce anzi va a punta centrale Romero 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 così a quasi ecco il caccio di inizio al secondo tempo ma si è sfigato sui rimpagli una sfiga incredibile e guarda che culo e guarda che culo non esce a Mosca che ci salva santo Mosca santo Mosca ancora Mosca e di cosa mi ha fatto appiare la mano ma guarda questo è cretino Stefano è cretino hanno la chance di aprire le marcature e c'è il gol non ha sbagliato dal dischetto non è possibile hanno aperto le marcature con questo gol 1 a 0 subito per le novità che riguardano il match della spalla andiamo in diretta è arrivato il terzo gol per la spalla risultato che ora è sul 3 a 0 e sono trascorsi 54 minuti sul cronometro d'accordo grazie con De Tenicio questa è l'annuncia su pallone prova a sfidare la ripresa avversaria può andare in porta intervento ma no cazzo tiri no furono mandalo mandalo in porta si guarda attorno conclusione deviata decisivo in questo tocco 66 alzano il press e chiedono la linea attenzione ci sono novità per quanto riguarda il match della spalla non lo mollare guarda che culo allungano ulteriormente portandosi sul 4 a 0 al 69 perfetto grazie per il tuo contributo suggerimento sbagliato oggi non c'è proprio ci voleva questa però massa che sfiga non se lo fa per la squadra avversaria c'è un'ottima rete di passaggio azione interrotta e possesso che sfuma c'è un'ottima rete di passaggio c'è un'ottima rete di passaggio cerca il sostegno dei compagni si opporre una conclusione difesa che deve fare attenzione qui andavo chissà no perdi andavo chissà no perdi vai glieluogano da no allora no all'ottima rete di rischio ma è il paletto ragazzi non brevo non brevo al minuto 86 grazie non si perdono d'animo e continuano a farsi vedere dalle parti dell'aria avversaria devono recuperare un gol il vigorelli che non tira mai quando glielo dico io abbiamo perso il suo problema tira perso tira persa col modello mannaggia la troia mannaggia la troia ci sta bene la troia la troia